Allora, Nicole, mi dicevi appunto della situazione del Giappone, quando c'è stato quel disastro, lei era lì? Era lì, stava volando proprio in Giappone quando è avvenuto il terribile terremoto e tsunami. E racconta proprio nel suo libro che mentre atterrava, vedeva che l'aereo risaliva, pensava a un'altra avventura d'aeroporto. No, era qualcosa di più serio. Purtroppo aveva l'occasione di tornare indietro, di cancellare le date, perché tutti i cantanti cancellavano, persino gli Iron Maiden, per dire, tutti i performer, mentre lei rimaneva, non ha voluto abbandonare i suoi fan, perché altrimenti cosa avrebbe significato l'affetto che lei aveva ricevuto negli anni da queste persone e lei sa, una delle sue frasi, nel mondo succedono tante cose e l'importante è esserci. E quindi lei ha voluto esserci e cercare di far dimenticare la devastazione a queste persone con quello che poteva fare, cantare. Grazie, Nicola. Adesso ci canterai una canzone proprio di Cindy, Two Color, una canzone bellissima.